Willy Wonka ci aveva gli schiavi. Eeeh, e che vi devo dire? Ma non tipo, uh, guarda come tratta Yumpa Loompa. No, no, no. Proprio schiavi, schiavi. Nella versione originale del 1964 sono descritti come dei piccoli ometti dalla carnagione scura presi direttamente dall'Africa e sono rappresentati così anche nelle illustrazioni ufficiali. Poi, quando hanno annunciato il primo film del 1971, hanno detto, ma signor Dahl, la tour del libro, ma non è che un po' too much, eh? O no? Così li ha cambiati i nometti, sempre nani, dalla carnagione più rosea, una sorta di parodia degli hippie. Mentre invece il film ha detto, ma sai cosa? Noi li facciamo arancioni e vaffanculo a tutti. E così è come li conosciamo ancora oggi. Che poi, se ci pensi, che cazzo di storia è la fabbrica del cioccolato? C'è la schiavitù, maltrattamento di bambini, lotta di classe, e ora Timothee Chalamet. Ecco, metti like a questo video se ti piace Timothee Chalamet e non la schiavitù. Ciao. 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 Ciao.